Eccoci, buonasera, bentrovati, grazie per essere qui a parlare di un tema che va al di là ovviamente delle elezioni dell'8-9 giugno, ma che le elezioni ci danno l'opportunità di esplorare insieme. Questo è il secondo appuntamento, come sapete, di un piccolo ciclo di incontri sull'Europa in vista delle elezioni europee. Ci sarà un'ultima tappa, un ultimo momento, proprio a ridosso del voto il 6 giugno, giovedì 6 giugno, mi pare sia giovedì, comunque insomma a due giorni dal voto in cui faremo il punto sugli aspetti ancora più, diciamo, legati proprio al voto, quindi come si vota, perché cosa si vota, il sistema elettorale, i rapporti di forza, che sono tutti temi che ovviamente usciranno anche nella discussione di oggi, ma insomma il 6 giugno avremo quest'ultimo momento proprio pre-elettorale. Presento e saluto Angela Mauro, che è inviata, corrispondente dell'Afton Post, da Bruxelles, e autriccia del libro che vediamo, Europa sovrana, la normalizzazione dei nazionalismi. Diciamo prima che è una nuova edizione di un testo che prima aveva come sottotitolo la rivincita dei nazionalismi e proprio di questo, di nazionalismi, sovranismi, anche se vogliamo un po' dell'effetto che la crescita di questa cultura politica a livello europeo ha sugli altri partiti e sull'agenda politica europea parleremo, sarà uno dei temi direi centrali della chiacchierata di stasera. Saluto e ringrazio Liliana Faccioli Pintozzi, Sky TG24, a lungo, insomma, ne parlavamo prima, a lungo a Bruxelles come giornalista, ma anche prima insomma proprio con un'esperienza al parlamento europeo, e Liliana è già stata nella prima tappa di questo piccolo ciclo con Marco Zatterin su, diciamo, un po' sulle figure, sui personaggi che hanno guidato e rappresentato l'integrazione europea. Oggi proveremo a accompagnare la nostra conversazione, il nostro racconto, con alcune immagini che abbiamo selezionato nei giorni scorsi che ci danno un po' il, diciamo, lo sfondo in tutti i sensi per individuare alcuni temi. E c'è un primo tema su cui appunto chiederò poi a entrambe, Angela e Liliana, di dire la loro, di proporci un commento, c'è un primo tema che ha a che fare in un certo senso con da dove viene l'integrazione europea, perché si dice spesso che insomma l'Unione Europea è nata o è al momento garanzia di pace in un continente che per lungo tempo ha conosciuto più guerre credo di qualunque altro posto della Terra. Qui abbiamo, diciamo, la testimonianza, una testimonianza iconografica di che cosa è stato il secondo conflitto mondiale e se guardiamo, diciamo, anche all'oggi è chiaro che ci rendiamo conto di quanto tutta una serie di temi molto dibattuti dal sostegno all'Ucraina all'integrazione militare a livello europeo siano in un certo senso i temi intorno ai quali si voterà l'8 e il 9 giugno. E quindi quello che mi chiedevo in questo parallelismo tra l'Europa che nasce come spazio di pace e l'Europa che oggi è abbastanza circondata invece dalle tensioni e le guerre, in questa tensione, come dire, qual è lo stato del dibattito sul ruolo militare e geopolitico che può avere l'Unione Europea? Comincerei con te, Liliana, su questo primo aspetto perché la domanda che molti, credo, si pongono lo si vede anche nei sondaggi sulle preoccupazioni degli europei, per esempio è davvero l'Europa può continuare a essere uno spazio di pace? Davvero l'Europa è, diciamo, un cuscinetto comunque di stabilità in un contesto sempre più complicato, sempre più teso diciamo sia a est sia a sud-est in questo momento se pensiamo anche al conflitto di Gaza? Io credo che la risposta sia da trovare dei direttori europei sì, l'Europa può continuare ad esserlo intanto che i direttori europei potranno pratificare l'interesse a tutta l'Europa in fondo di qualsiasi politica c'è una frase di Spinelli anche lo Spinelli, l'autore, l'altrime, insomma tante autore, ma non perdono tene dai suoi diari europei la sono segnata perché fa impressione per quanto non si possa dire pubblicamente il fatto è che l'Europa per nascere ha bisogno di una forte tensione russo-americana e così l'Europa è nata e non della distensione così come per consolidarsi essa avrà bisogno di una guerra contro l'Unione Sovietica all'Unione Sovietica non c'è più una guerra con la Russia l'Europa al momento non la sta facendo in prima persona ma sta sostenendo con forza vediamo dall'immagine sta sostenendo con forza l'Ucraina questo per dire cosa? per dire che se Spinelli ha ragione questo è il momento in cui l'Europa deve scegliere che cosa fare di se stessa nella sua storia è sempre cresciuta attraverso le crisi sono le crisi che l'hanno spinta a fare uno scatto in più è successo ad esempio con la crisi finanziaria del primo decennio del 2000 quando magari non in maniera istituzionalizzata ma con un coordinamento che non si era mai visto tra i capi dei stati e di governo si è reagito insieme anche su competenze che l'Unione Europea non aveva l'abbiamo visto con il Covid con il Covid l'Europa unita ha fatto una cosa che teoricamente poteva fare per carità di Dio però era una procedura d'emergenza nessuno avrebbe scommesso neanche un euro che sarebbe accaduto e invece è accaduto vedremo se lo farà in questa situazione qual è lo scatto in più che dovrebbe fare ed è infatti uno dei dibatti di questi mesi di queste settimane è la politica estera e soprattutto la politica di difesa comune la politica di difesa comune è tipo l'elefante nella stanza dal momento zero dell'unificazione europea il primo trattato per una comunità europea di difesa del 1954 e fu bocciato dai francesi con un referendum la ratifica ne fu bocciata e lì lì morì ci si è riprovato in continuazione c'è sempre stato di meglio da fare o altre priorità o semplicemente i tempi non erano maturi ecco vedremo dopo queste elezioni i tempi lo saranno una delle grandi incognite secondo me è la maturità dell'elettorato europeo e del dibattito pubblico europeo molto spesso il dibattito pubblico per le elezioni europee è un dibattito legato neanche alle priorità nazionali che sarebbe normalissimo ma al dibattito nazionale anche tutta la questione su facciamo il dibattito in televisione la legge sulla parcondice che non voglio minimamente aprire però vede Giorgia Meloni e Ellie Schlein in prima persona nessuna delle due andrà a Bruxelles andranno a parlare se l'avessero fatto probabilmente avrebbero parlato di questioni prettamente europee o di condoni di super bonus di questo e di quest'altro e questo è un problema e non accade soltanto da noi accade un po' ovunque è un problema perché poi l'elettorato non viene chiamato a esprimersi su quelli che saranno invece i temi di questa legislatura e molti dicono che sarà una legislatura o che almeno dovrebbe esserlo costituente cioè in grado di far fare all'Europa quel passo in più quindi per rispondere alla tua domanda io credo che sì l'Europa sia e possa essere ancora una garanzia di pace al suo interno per i suoi popoli se e questo è un grande se verranno eletti partiti quindi esponenti membri del Parlamento Europeo che vorranno tutelarla questa questa costruzione non c'è niente di male in una visione secondo me almeno in una visione di un'Europa delle nazioni magari ma se questa Europa delle nazioni poi porta allo scontro fra le nazioni non è più un'Europa c'era una battuta quando ero nel Regno Unito e si votò per la Brexiter facevamo una battuta con i colleghi lì e dicevamo l'unico euroscettico di successo è l'euroscettico che perde le elezioni perché può continuare a portare avanti le sue battaglie le sue idee anche a modificare un minimo la linea di governo ma non deve farsi carico di applicare quello in cui crede che poi non è così conveniente lo stiamo vedendo con il Regno Unito con la Brexit lo hanno visto i conservatori inglesi con la Brexit cioè quanto è complicato difficile masochista uscire dall'Unione Europea io credo che sia questa una delle questioni italiane europee in questo momento un minimo di nazionalismo diciamo come dire non estremo ma di interesse nazionale è normale è fisiologico è giusto anche che ci sia se questo porta il mio interesse nazionale in contrapposizione al tuo andiamo allo scontro l'Europa è finita e secondo me quello è un rischio credibile concreto e sarebbe uno spreco lo spreco di un secolo di lavoro di lavoro fatto velocemente due considerazioni in più al suo interno quindi può mantenersi ancora sì credo che alcuni nazionalismi sovranismi democrazie liberali ce ne sono tanti andranno bene potranno andare bene ma attenzione è anche capace che si rendano conto loro per primi e quindi facciano un passo indietro rispetto a non dare fino all'ultimo miglio credo che però ci sia un forte rischio di meno pace tra virgolette all'interno per quello che riguarda i diritti la questione dei diritti mi sembra più a rischio perché è quella a costo zero è una questione di bandiera molto semplice però sono anche convinta che dove i diritti non vengono rispettati non ci sia democrazia a partire dai diritti delle donne i diritti riproduttivi le minoranze eccetera e l'altra questione qui mi fermo è all'estero nella sua proiezione esterna l'Unione Europea ancora non ha capito cosa vuole fare e quello sarà sicuramente appunto insieme alla politica estera è la prossima frontiera noi finora abbiamo sempre ragionato con lo strumento dell'allargamento non si può andare avanti perennemente unicamente con quello strumento non lo dico io lo diceva uno dei primi commissari all'allargamento su cui poi arriviamo perché anche diciamo l'espansione di quella che adesso si chiama Unione Europea è un tratto interessante che si intreccia anche molto con le riflessioni sui sovranismi sull'Europa dell'est e proprio su questo volevo coinvolgere Angela Mauro perché insomma tu nel libro per esempio a un certo punto citi un po' questa tensione in relazione alla Polonia tra come dire la solidità anti-Putin di un paese che diciamo per molte ragioni note e intuibili è ferocemente anti-russo anche a livello di opinione pubblica e però proprio l'elemento dello stato di diritto aggiungo una riflessione nel chiederti Angela la tua valutazione non c'è un unico approccio al tema del diciamo del geopolitico e della difesa nei paesi che consideriamo espressione dei nazionalismi dell'est Europa nel senso che abbiamo da un lato una figura come Orban che è considerato il più filo russo tra forse tra i capi di governo europei e al tempo stesso adesso è cambiato la maggioranza politica come sappiamo in Polonia ma fino a poco tempo fa la Polonia pur essendo decisamente e chiaramente antirussa aveva qualche problema con l'Unione Europea dal punto di vista della tutela dello stato di diritto e rappresentava il PIS insomma evidentemente una delle colonne portanti del sovranismo dell'Europa orientale ci racconti un po' questa questa contraddizione apparente no non è buonasera innanzitutto e grazie no non è non è una contraddizione tu hai citato due dei paesi guida del cosiddetto gruppo di vicegrad no sapete Polonia Ungheria Slovacchia Repubblica cieca cioè quei paesi che si sono dell'Europa dell'est che si sono sempre ritrovati possiamo dire così intorno il gruppo è nato molto tempo prima agli anni 90 ma diciamo che poi crescendo così negli anni più recenti sono ritrovati intorno alla alla formula di democrazia illiberale teorizzata da Orban no e sono i paesi appunto a guida sovranista alla Polonia fino a ottobre dell'anno scorso che hanno sempre in tempi di pace cioè prima che scoppiasse la guerra in Ucraina hanno sempre dato filo da torcere a Bruxelles per lo stato di diritto la Polonia per le leggi fatte che minano l'indipendenza della magistratura e che strangolano anche l'indipendenza dei media abbiamo visto anche le manifestazioni contro l'aborto eccetera e tante altre cose però queste sono le principali l'Ungheria stessa cosa media diritti LGBTQ riguarda anche la Polonia negati in Polonia sono nati ricorderete sicuro perché se ne è parlato molto comuni LGBTQ free cioè dove appunto omosessuali non erano ammessi in Ungheria appunto il governo ha emanato diverse leggi che hanno portato alla chiusura di emittenti libere che criticavano il potere è stato molto grosso il caso di una radio che era molto influente che è stata chiusa qualche anno fa insomma hanno sempre dato filo da torcere a Bruxelles sul Stato di diritto tanto che Bruxelles ha pensato di aprire la procedura per l'articolo 7 che significa che questi paesi chi viola i principi dell'Unione può essere sanzionato anche con la negazione del diritto di voto cioè ti tolgo il diritto di voto tu consiglio non voti non si è mai andati fino in fondo su questa strada perché l'articolo 7 non è stato mai diciamo deciso fino in fondo non è mai stato compiuto l'ultimo step tra l'altro qualche giorno fa mi sa ieri nei confronti della Polonia è stata anche chiusa la procedura perché si pensa a Bruxelles che appunto adesso non ci siano c'è un altro governo e quindi diciamo che è un po' sulla fiducia questa è un po' criticabile come decisione secondo me però un po' sulla fiducia si è chiusa la procedura perché c'è un altro governo moderato che dovrebbe fare le riforme che Bruxelles chiede anche se non le ha ancora fatte ovviamente Orban è molto arrabbiato per questa cosa perché dice soltanto noi abbiamo la procedura in corso ora questo gruppo si è diviso con la guerra tra Putin tra Filoputin Orban e Antiputin Polonia che è sempre stata la prima linea della politica la più transista tra gli stati europei contro Mosca e per Kiev si è diviso sulla guerra ma non è finito cioè non si è disintegrato Visegrad non è finita perché nel frattempo Visegrad e i nazionalisti che man mano poi sono cresciuti anche negli altri stati europei quindi gli amici di Orban sono cresciuti anche gli stati europei anche in Italia governa un partito è una leader che è alleata di Orban e che magari all'inizio dell'esperienza di governo evitava le foto opportunity con Orban nella fase in cui ancora cercava di costruirsi le credenziali per governare adesso invece è sloganato si sa appartiene ed è alleata dei sovranisti del PIS che governavano la Polonia fino a ottobre Visegrad quindi nelle politiche e nel trend nelle tendenze politiche e anche in molte decisioni dotate dall'Unione Europea perché è riuscito a influenzare l'agenda non è non è morto purtroppo dico io perché su molti argomenti è riuscito a imporre la sua ricetta per esempio sull'immigrazione l'immigrazione e la prendo diciamo dal 2015 proprio per dire che insomma forse dovremmo anche frenare un po' gli entusiasmi quando cambia il governo in un paese come la Polonia che rimane un paese spaccato in due perché il PIS è comunque primo partito anche se non governa più l'attuale premier polacco fu lui che era presidente del Consiglio Europeo nel 2015 a far fallire un piano d'accoglienza dei migranti proposto dall'allora presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker c'erano già i nazionalisti in agguato che di lì a poco vinsero le elezioni e quindi lui fece fallire quel piano lì nel frattempo su questo argomento si è andata avanti nella trattativa c'è stata un'altra proposta dopo l'incendio che ha distrutto il campo profughi di Lesbo lo ricorderete a settembre del 2020 eravamo in pieno covid e c'è stata una proposta sul patto per immigrazione d'asilo e si è arrivati all'approvazione di questa proposta dopo anni di trattative tra i 27 stati europei e con notevoli concessioni ai paesi di Visegrad che non l'hanno votato Polonia-Ungheria e anche Tusk non l'ha votato anche il moderato Tusk non l'ha votato però è un piano che non ci parla di accoglienza ci parla sicuramente di maggiore sicurezza alle frontiere anche per i minori e per dire che su questo si è qui hanno vinto loro le loro parole d'ordine sono presenti quelle che un'altra Europa tentava di usare in passato sono scomparse un altro esempio Green Deal Green Deal come sapete è stata la bandiera di questa commissione europea la bandiera di Ursula von der Leyen eravamo tutti direi anche entusiasti perché all'epoca c'erano le manifestazioni degli studenti dei Fridays for Future ed eravamo tutti molto colpiti dal fatto che la nuova presidente della commissione europea tra l'altro esponente di un partito conservatore il PPE si presentasse al pubblico con la bandiera verde ambientalista della sostenibilità io rimasi scioccata non me l'aspettavo però effettivamente quella era la direzione che l'Europa voleva diciamo voleva agganciare voleva voleva prendere per riagganciare la crescita questo prima della guerra in Ucraina perché l'Europa comunque era già andata avanti sulla transizione tanto sulla transizione energetica comunque su norme ambientaliste un po' tecniche non voglio annoiare quindi non non ci andrò ma era andata avanti su questo terreno più della Russia della Cina dell'India è scontato ma anche degli Stati Uniti dopodiché però che cosa è successo e quindi grande speranza grande speranza ne arrivò anche un'altra come diceva bene Liliana prima nel Covid Covid reazione incredibile dell'Unione Europea next generation EU cioè mettiamo insieme facciamo debito comune per aiutare i paesi ad affrontare insieme tutti allo stesso nastro di partenza indipendentemente dalla propria condizione finanziaria la nuova crisi la Germania sapete era contraria l'Olanda era contraria si convinsero si parte con la guerra tutto questo e i nazionalisti erano in crisi all'epoca anzi erano già diciamo stati messi un po' da parte dal cordone sanitario costruito da Sassoli in Parlamento Europeo ed erano un po' relegati fuori dalla stanza dei bottoni Salvini aveva perso anche il governo non votando von der Leyen insomma era una fase di magra per loro sicuramente dei sondaggi eccetera arriva la guerra cosa succede arriva la guerra crisi energetica crisi economica ovviamente loro diciamo laddove si crea un vuoto un motivo di malcontento si infilano queste tendenze politiche che puntano la pancia dell'elettore alla paura agitano tutte le paure possibili e dopo aver vinto sull'immigrazione vincono anche sul Green Deal frenano il Green Deal che tra l'altro era stato fatto male perché era stato fatto con pochi soldi e si era creato quindi un vuoto e loro lo riempiono lo riempiono con le piazze con i trattori con gli agricoltori con il dibattito sull'abolizione delle caldaie a gas in Germania è lì che cresce la FD un partito politico di cui si parla moltissimo in questi giorni non so se avete sentito le polemiche su uno dei loro insomma che ha detto che le SS non vanno colpevolizzate tutte ma bisogna vedere le colpe individuali siamo a questo siamo ad una fase in cui persino in Germania dove c'era il tabù dell'estrema destra dove si diceva che mai nulla di più a destra doveva esserci più della CDU niente più a destra della CDU non c'è niente adesso ora per questa polemica hanno perso qualche punto percentuale però sono al 20% più o meno oggi ho visto la 17% a livello federale sono la seconda forza politica e si pone un problema serio cosa fare di tutti questi voti come fai a lasciarli fuori dal governo nel momento in cui convinciano a prendere percentuali di voto ora tu sei un esperto di sontaggi e voti come fai democraticamente a dire questa rappresentanza sta fuori nel momento in cui la gente li vota ora vado a chiudere se no e per dire che la guerra sicuramente ha operato una frattura in Europa tra chi sta con Putin chi sta con Mosca ma di certo ha alimentato anche perché ha prodotto una grossa crisi e ha come dire riacceso quelle micce che già c'erano nel 2019 rendendo possibile un altro assedio all'istituzione europea da parte dei movimenti euroscettici e nazionalisti che si compirà alle elezioni del prossimo giugno con però una differenza sostanziale mentre allora avevamo Saldini che era visto come leader di tutta questa galassia sovranista era quello più in vista quello con più voti adesso ce ne sono tanti come lui lui è in crisi ovviamente ma adesso c'è Meloni c'è Wilders che ha appena fatto un governo in Olanda poi magari ci torniamo dopo ce ne sono tanti e nel momento in cui ce ne sono tanti il rischio che io vedo è che l'Europa non sarà più quella che abbiamo conosciuto finora cambierà volto se posso aggiungere due date al discorso di Angela perché è un discorso che ha origine lontano nel tempo due esempi facilissimi giusto per per rendere plastico quello che stava dicendo lei 1999 Bruxelles si era appena formato il nuovo Parlamento si discuteva della formazione dei gruppi Berlusconi aveva preso molti voti forse aveva preso moltissimi voti e o 98 no 99 luglio 99 se non sbaglio il PPE straziato alla fine ma straziato a discussioni enormi notate eccetera alla fine decide di metterlo quasi in lista d'attesa in anticamera e poi lentamente lo fa entrare era la Forza Italia dei Martino era la Forza Italia dei Tremonti mai pensato che le SS fossero brave persone cioè era un partito che insomma si di centro-destra ma nulla a che spartire un partito europeista lo fece rientrare ma con grandissimi mal di pancia ora nulla di più normale a Bruxelles che sentire parlare il PPE guidato dal dal tedesco Weber che su questo ci ha giocato la sua carriera discutere se sia il caso di o no di fare entrare la Meloni cioè il paradosso della Meloni non vuole entrare perché ha altri progetti per fare il pesce grande in un partito gruppo magari più piccolo l'altra data è il 2002 è l'ultima volta forse che il cordone sanitario ha funzionato quando la Francia la Francia il motore franco-tedesco il cuore dell'Europa la vecchia Europa quella che poi dirà no all'invasione in Iraq facendosi spernacchiare da Powell ma insomma era la Francia è costretta a richiamare il cordone sanitario perché perché Le Pen lui non lei arriva al ballottaggio alle presidenziali li capisci che tutto il continente tutta la politica continentale si sta spostando lentamente a destra all'epoca la Francia ce la fece ok da lì però in questi ultimi vent'anni noi abbiamo visto la morte di qualsiasi come dire visione europea forse l'ultima è stata la convenzione sulla Costituzione nel 2003 dopodiché non ci sono state più grandi visioni si è reagito alle crisi ma la visione l'abbiamo persa una crisi del socialismo europeo forse Glucksmann in Francia adesso ma sembrano quasi stelle così che compaiono compaiono quasi quasi all'improvviso e qui mi taccio il motore franco tedesco la cui crisi è evidente e appunto lascia un vuoto di potere che come dicevano viene occupato non è che rimanga lì a proposito di temi che sono appunto emersi abbiamo alcune altre immagini che ci guidano nella riflessione su un grande tema sottostante che poi viene poco messo in discussione ma la domanda sarà proprio su questo cioè se dovremmo mettere in discussione vale a dire il concetto di espansione di allargamento dell'Unione Europea si parla di motore franco tedesco qui noi abbiamo diciamo una buona parte della configurazione iniziale quella che poi sarebbe diventata molto dopo l'Unione Europea con all'epoca 57-58 un'integrazione che riguardava sei paesi sei paesi fondatori Italia, Francia, Germania Belgio Paesi Bassi e Lussemburgo di cui insomma qui vediamo Denauer, De Gasperi Schumann e insomma il tema dell'allargamento si pone nel momento in cui come sappiamo per una serie di evoluzioni storiche tra cui non possiamo non citare ovviamente la caduta del muro nell'89 si arriva diciamo a un compimento di quell'allargamento che per ora ha già iniziato questa è un'immagine che ho ritrovato del 72 che testimonia l'allargamento che all'epoca riguardava Regno Unito Danimarca e Irlanda Regno Unito è entrato dopo e poi come sappiamo è uscito prima ha avuto una permanenza piuttosto breve nella comunità nell'Unione Europea per cui appunto abbiamo quell'allargamento ma poi ce ne sono stati molti altri e quello forse più discusso è appunto quello che riguarda l'allargamento a est dopo dicevamo la la caduta del del muro qui 89 queste sono immagini notissime di quei momenti e qui c'è un'altra immagine interessante perché qui abbiamo una ricostruzione per il ventennale della caduta del muro davanti al Parlamento a indicare quanto diciamo anche dal puntista simbolico le istituzioni europee riconoscano evidentemente quello come un momento importante ma insomma l'allargamento che qui ve la metto in questa in questa modalità vedete quelle due puntine la prima quella più a ovest era il centro geografico dell'Europa unita nella sua configurazione iniziale e stava tra Francia e Belgio oggi con tutti i limiti di dare un centro geografico però insomma simbolicamente forse ha qualche significato come vedete il centro geografico dell'attuale Europa unita 27 è in Germania ma diciamo non troppo distante proprio dalla Cecchia che è uno dei dei paesi che venivano citati prima in riferimento a Vischegar cioè c'è stato naturalmente un allargamento est molti molti Angela dei temi molte delle preoccupazioni sul stato di diritto e anche diciamolo su un po' l'immobilismo decisionale che rischia che rischia l'Unione Europea alla fine si devono a paesi entrati nel 2004 insomma o a seguire quello che ti chiedo alla luce anche delle tue riflessioni appunto sulla normalizzazione dei nazionalismi e sull'effetto che hanno sul resto del quadro politico quello che ti chiedo è dovremmo mettere in discussione questo allargamento cioè essenzialmente quello del 2004 tanto fosse non casuale Nato e Unione Europea che porta dentro all'Unione un pezzo importante dell'Europa orientale che oggi detta così è un po' brutta ma è quella che crea più problemi ce l'hai detto anche tu prima lo possiamo mettere in discussione quell'allargamento è stato un errore è stato prematuro si poteva fare in un altro modo non più potevamo farlo prima della guerra in Ucraina adesso non più potevamo farlo però non so in quali termini comunque non si poteva mettere in discussione allora prima cosa sicuramente si può dire che forse quell'allargamento pur necessario io non lo sto contestando magari andava fatto in maniera più oculata e più attenta semplicemente per evitare di ritrovarsi nella situazione imbarazzante in cui poi l'Unione Europea si è ritrovata e cioè quella di dover redarguire questi stati sul rispetto dello stato di diritto come dicevamo prima però avendo difficoltà poi a prendere a sanzionarli davvero infatti non è stato mai fatto siamo andati avanti anni e anni di dibattiti anche noiosi per noi giornalisti che dovevamo seguirli anche per chi doveva insomma per elettori o i telespettatori e quante volte abbiamo scritto il titolo l'UE si divide e l'UE non decide su questo questo problema dello stato di diritto un passettino in avanti c'è stato col covid di nuovo quando quando si è deciso il next generation EU cioè questa forma di debito comune per fare un modo da avere soldi per affrontare la crisi è stata una decisione nella quale che è stata presa anche perché molti stati l'hanno chiesto e l'hanno ottenuto comprendeva anche la cosiddetta condizionalità sullo stato di diritto cioè se non fai certe riforme non ti do i soldi i fondi europei quindi e infatti come sapete i fondi dell'Ungheria e della Polonia sono stati congelati per diversi anni adesso per rispondere alla tua domanda la guerra ha cambiato tutto ha cambiato anche questo non solo ha stabilito altre priorità tanto che lo stato di diritto se ne parla poco non se ne parla più non se ne parla più come prima ma Bruxelles ha fatto dei passi in avanti verso questi stati ha cominciato a scongelare questi fondi anche se le riforme non sono state fatte e ci sono state polemiche anche risoluzioni approvate dal Parlamento europeo che ha contestato la scelta della Commissione per esempio di sbloccare i fondi all'Ungheria e anche alla Polonia sono state approvate risoluzioni a maggioranza in entrambi i casi che contestavano questa scelta cioè della serie tu mi hai detto che congeli i fondi perché non hanno fatto le riforme e adesso siccome c'è un'altra priorità geopolitica ti serve che tutta l'Europa stia con Kiev o in qualche modo ti serve che l'Unione non si divida nel momento in cui c'è un attacco così radicale all'Occidente allora che fai lo Stato di diritto non conta più e quindi cominci a sborsare i soldi a chiudere le procedure cioè la guerra effettivamente ha stabilito ovviamente questa contestazione del Parlamento non ha portato a nulla ha portato semplicemente a salvare la coscienza di chi l'ha votata che poi la maggioranza degli eurodeputati quindi a fare campagna elettorale ma nel meccanismo decisionale non ha cambiato nulla perché la guerra ha stabilito altre priorità priorità che però non sempre fanno rima con i valori che Schumann pensò e gli altri padri dell'Unione Europea pensarono quando misero su cioè divenne questa idea di cominciare questo cammino che come scritto nella dichiarazione di Schumann avrebbe dovuto compiersi in senso federalista loro parlano di federazione degli stati europei come unico modo per mantenere la pace questo c'è scritto nella dichiarazione di Schumann non è avvenuto e dicevo la guerra ha stabilito altre priorità che non sempre fanno rima con quei valori tanto che e lo vediamo con in seguito a questo ribaltamento dei rapporti di forza tra le forze moderate e nazionalisti e le forze dell'estrema destra che in molti casi trainano il governo come in Italia oppure arrivano al potere come in Olanda tra l'altro scusate mi pregio di questa cosa la parentesi vi racconto un aneddoto a febbraio giro per il Parlamento europeo in realtà stavo andando alla presentazione di un libro su Bob Dylan ma non per lavoro volevo distrarmi c'era l'autore che non conoscevo mi aveva contattato vado a questa presentazione incontro fonti di Renew Europe dei liberali che a febbraio e c'è nel libro lo racconto mi dicono a maggio nasce in Olanda facciamo noi liberali liberali sarebbe la famiglia politica di Macron per capirci facciamo in Olanda il governo con Wilders che è uno dei leader dell'estrema destra dell'esponente del gruppo di Salvini di Le Pen dell'AfD di Identità e Democrazia è un diciamo cavaliere nero dell'estrema destra che nel 2019 non riuscì ad eleggere eurodeputati quello che bruciava i porani vergogna sì islamofobo anti-immigranti lui ha vinto le elezioni in Olanda il 22 novembre scorso anche se non aveva una maggioranza per governare bene questi di Renew mi dicono a maggio faremo il governo con lui e io dico no non è possibile con lui con Wilders è come fare il governo insomma non voglio dire un nazista però insomma uno molto estremo sì perché l'alternativa dicono che se andiamo ad elezioni lui rivince e rivince con più voti e magari forma un governo da solo invece così lo possiamo condizionare io risposi ci provò pure Giolitti con Mussolini e non ci riuscì ed è infatti il ragionamento che faccio nel libro dove c'è una frase di Emilio Lussu dopo abbiamo tempo all'inizio che cito che dice appunto questo insomma come ben sapete la scorsa settimana questo governo non è ancora nato ma è stato annunciato l'accordo di coalizione ora stanno cercando il premier che addirittura potrebbe essere addirittura un socialista questo per dire cosa che evidentemente nel momento in cui o almeno questo forse è il ragionamento che si può fare nel momento in cui c'è un attacco all'occidente perché è ovvio siamo in una fase di conflitti globali e di una fase di equilibri globali si stanno in qualche modo riassestando e vedremo chi la vincerà per l'establishment europeo vanno bene anche queste forze queste forze qui che primo nel momento in cui vincono le elezioni è difficile metterle da parte perché come fai secondo evidentemente ormai è troppo tardi e quindi alla fine poi queste forze nel momento in cui ci discuti per fare il programma riescono a imporre le loro idee il programma del governo futuro olandese parla di deportazione anche forzata degli immigrati clandestini parla di trasferimento dell'ambasciata olandese da Tel Aviv a Gerusalemme come fece Trump tanto per accendere un'altra miccia in Medio Oriente che ce n'era bisogno insomma ci sono parole d'ordine che sono nettamente diverse dall'Europa alla quale pensavamo di ambire secondo me cioè si è abbassata proprio l'asticella di ciò che è accettabile al livello di decisioni di agenda e di istituzioni e ciò che invece non è accettabile e tra l'altro non se ne parla nemmeno tanto fortuna che abbiamo questo posto lo stiamo facendo noi però io non vedo no lo dicevamo prima in Italia non c'è non c'è un dibattito su questa cosa non si parla perché sono tutti in imbarazzo perché le forze politiche cosiddette europeiste progressiste moderate sono tutte in imbarazzo c'è anche Angela anche un'altra considerazione sono in imbarazzo anche perché i leader europeisti sono deboli c'è Macron che insegna all'Europa intera e cerca di dare le carte magari non farà fare la presidente della commissione alla von der Leyen ma sta tramando a torto a ragione non importa però è sicuramente un europeista lui Macron perde le elezioni europee contro la Le Pen cioè in Francia il primo partito è Le Pen questa è la verità il governo di cui parlava Angela Mauro è nei paesi bassi cioè nei paesi fondatori quindi sì certamente c'è una questione di un allargamento fatto senza dare a quei paesi il tempo di uscire anche socialmente e politicamente da 50 anni di socialismo reale perché non ci dimentichiamo che questa Europa questa Unione Europea è figlia della guerra fredda è figlia della vittoria fra virgolette e anche senza virgolette della guerra fredda non ci dimentichiamo che noi in tutti i promo andiate a votare se non votate voi sceglie qualcun altro verissimo è anche un bellissimo slogan noi facciamo vedere la cauta del muro di Berlino perché lo riteniamo momento fondante non c'è mai un'immagine per dire della rivoluzione dei Garofan in Portogallo della fine del regime dei colonnelli in Grecia della fine di Franco e di quella transizione democratica spagnola che ha garantito comunque la pace in quel paese dopo anni di fascismo perché il fascismo non è solo il nostro o il nazismo tedesco e i fascismi sono stati tanti in Europa ogni paese l'ha declinato in maniera diversa con rapporti di forza differenti ma l'Europa è figlia anche di quei fascismi che però in qualche modo ci dimentichiamo così come ci dimentichiamo che le democrazie hanno bisogno di tempo molto semplice c'è bisogno di tempo la Polonia è diversa anche perché Solidarnosc ha lasciato un segno in quel paese nei dieci anni della sua prima della cauta del muro è diversa dall'Ungheria su questo ma forse se c'è stata una colpa diciamo che l'Unione Europea ha avuto fretta nel 2004 ha avuto paura forse doveva esigere di più secondo me forse doveva farsi valere di più dare più tempo ovviamente aspettare che facessero delle riforme ma non di facciata far crescere un'opinione pubblica però non nascondiamoci dietro un dito cioè io penso che non è che non lo sapessero perché altrimenti penserei che siamo stati governati a degli inetti non è così è ovvio che c'era un calcolo solo che era diverso da quello che avrebbe portato ad una maggiore diciamo considerazione dei valori e dei principi su cui è nata l'Unione Europea è ovvio che l'Unione Europea si è allargata a est perché c'era la necessità geopolitica anche di allargare appunto il fronte dei paesi occidentali in funzione anti-Unione Sovietica no? e questo è chiaro non è che ce lo possiamo nascondere quindi alla fine quindi alla fine non hanno aspettato perché c'era questa ugenza qui è sempre il problema dell'Unione Europea secondo me è che è stata allora è un'intuizione chiaramente bellissima no? alla quale secondo me i nostri giovani giovani di ora sono anche più affezionati nel senso che la danno per scontata non ci fanno tanti ragionamenti sopra un po' per l'Erasmus un po' perché oggi con i low cost si viaggia non era come quando io ho fatto un anno di studio di insegnamento in Irlanda l'italiano anni 90 non c'erano le low cost non c'erano non c'era niente adesso è tutto molto più i giovani sono sicuramente molto più di natura proprio europei di quanto eravamo noi però è chiaro che forse nei tornanti della storia hanno prevalso nel fare l'Unione Europea altre ragioni che non l'Unione Europea in sé cioè altre ragioni geopolitiche come ora sta prevalendo giusto legittime perché erano legittime magari ma bisognava coniugarle con un po' più diciamo di amore verso il processo proprio di rafforzamento e costruzione dei valori e dei pilastri su cui si fonda la nostra Unione senza dimenticare che poi sono arrivate una serie di crisi una dopo l'altra perché loro sono entrati nel 2004 e già l'Unione Europea era in difficoltà perché avevamo bocciato la Francia e l'Olanda avevano bocciato la Costituzione Europea quindi c'è stata tutta la rinegoziazione dei trattati e lì si sono viste le prime spine poi sono arrivate la crisi dell'euro la crisi dei migratori una crisi dopo l'altra sempre più riavvicinate non aiuta a una evoluzione democratica di opinioni pubbliche e comunque fino a vent'anni fa non potevano aprire la bocca venticinque anni fa ma tra l'altro è interessante appunto si diceva della spinta geopolitica e poi più o meno contestuale tra fine anni 90 e metà anni 2000 l'allargamento della Nato e tant'è che la rivendicazione di Vicegrad era doppia cioè integrazione europea ma anche diciamo inserimento nella sfera Nato quindi questo lo conferma senz'altro abbiamo alcune immagini che ci portano diciamo sull'ultimo punto di discussione poi se avete qualche domanda sicuramente insomma c'è modo di rispondere di dialogare che è un po' diciamo la riflessione su le leadership qualcosa è già uscito no? ci sono non ci sono quali sono e anche sulla diciamo capacità decisionale di un'Unione Europea con le caratteristiche di cui abbiamo parlato fin qui beh qui vediamo tra l'altro il tavolo del del consiglio no? che è Angela insomma tu sei sei stata immagino tante volte da quelle parti che no lì non ci fanno entrare purtroppo ci fanno vedere solo le immagini magari nel backstage diciamo intanto che c'è un tema anche di architettura istituzionale cioè qui nel consiglio ci sono le leadership nazionali di fatto più ovviamente le figure delle istituzioni europee qui si intravede Ursula von der Leyen si intravede mi pare Michelle già presenta commissione del consiglio stesso quindi c'è un livello di leadership e decisionale che tuttora è essenzialmente figlio di una cultura intergovernativa in cui vari paesi si confrontano e poi c'è il livello del parlamento c'è il livello della commissione vogliamo come dire spiegare anche un po' questo elemento e perché quando si parla prima parlavi di rallentamento ad esempio del Green Deal dove si colloca questo rallentamento e questa pressione da parte dei paesi diciamo a guida sovranista avviene a livello di consiglio avviene nel parlamento avviene nella commissione e guarda sul Green Deal in modo particolare visto che era arrivato già era stato prima della guerra approvato dal consiglio quindi i vari fascicoli erano arrivati al voto in parlamento quando è scoppiata la guerra in Ucraina e quindi i primi segnali di inversione di tendenza si sono avuti mi ricordo giugno 2022 a Strasburgo votazione sui dossier vari del Fit for 55 che mi do una chicca un commissario di cui non dirò il nome però con molto conservatore ha soprannominato Shit per dire quanto poi questa cosa è stata anche poi divisiva nella commissione europea ed queste divisioni si sono esplose nel momento in cui il padre del Green Deal cioè il socialista olandese Timmermans è diventato un po' il parafulmine di tutti gli attacchi della destra che volevano frenare e fermare il Green Deal e me lo ricordo lui scatenato in aula a Strasburgo a cercare di difendere il provvedimento mentre l'aula era in subbuglio e infatti in quella votazione furono approvati degli emendamenti che facevano fare cominciavano a far fare dei passi indietro a tutta la normativa mi ricordo che lui cercava di spiegare lo racconto nel libro adesso non mi ricordo bene però mi ricordo un aneddoto che raccontò lui si disse guardate anch'io io sono un motociclista è ovvio che non mi immagino di andare su una moto elettrica però so che è quella la direzione che dobbiamo intraprendere anche perché la Cina sta facendo passi in avanti sull'elettrico quindi sarà anche un problema di competitività e lo stiamo vedendo adesso perché sul nostro mercato arrivano le auto elettriche cinesi che costano di meno quindi la frenata su Green Deal si è vista benissimo in Parlamento con lo spostamento a destra dei partiti primo del Partito Popolare Europeo e poi dei liberali che hanno i liberali sono sempre stati ago della bilancia o di qua o di là si sono spostati subito a destra anche Calenda ha votato con i sovranisti in quell'occasione i liberali si sono un po' spaccati però ecco hanno cominciato a orientarsi verso le istanze della destra non che fossero tutte sbagliate perché l'ho detto prima il Green Deal non è stato fatto bene è stato fatto con i fichi secchi cioè doveva avere un fondo molto più consistente per aiutarci a sostenere la ristrutturazione di casa ma siccome i nazionalismi portano pure l'austerity perché poi quando i nazionalismi crescono nei paesi frugali le loro parole d'ordine quali sono del sud non ce ne frega niente quindi inutile che continuate a dire che dobbiamo mettere le risorse in comune per aiutare gli altri paesi dell'Unione Europea no dobbiamo aiutare soltanto i nostri cittadini questo tra l'altro questo non se ne parla tantissimo ma lo dicono pure i socialisti danesi o i socialisti svedesi cioè non è che lo dicono soltanto i nazionalisti è più geografico che politico cioè se chiediamo alla Fredriksen danese perché invece Orban è felicissimo quando si tratta di soldi europeista infatti la divisione è più nord-sud che nelle famiglie politiche perché nelle famiglie politiche europee c'è una diversità pazzesca a seconda del paese dal quale provieni ovviamente come dicevo in commissione è esplosa la bolla nel senso che chi prima masticava amaro per questo diciamo protagonismo di Timmermans nel Green Deal nel momento in cui Fonderlion stessa era la paladina del Green Deal e tutto il suo partito lo sosteneva nel momento in cui è entrata in crisi si sono sfregati le mani che lo potevano attaccare e quindi hanno festeggiato sostanzialmente divisione in commissione e poi e poi nelle riunioni degli ambasciatori voi sapete a Bruxelles due volte alla settimana si riuniscono gli ambasciatori degli stati membri stanno diventando un organo molto con il covid sono diventati un organo molto importante dell'Unione Europea noi stessi ce ne occupiamo ci occupiamo della riunione degli ambasciatori che prima non si faceva perché spesso devono sbrogliare matasse molto complicate devono trovare accordi molto difficili lo hanno fatto durante il covid perché erano tutti lì a Bruxelles mentre i leader si dovevano riunire a distanza era più facile che si riunissero loro e prendessero le decisioni sulla chiusura delle frontiere che molti stati hanno deciso unilateralmente piuttosto che su altre cose e quindi si sono diciamo si è rafforzato come organismi il che è abbastanza curioso e strano anche perché non è un organismo diciamo pubblico però è importante a livello decisionale e anche con la guerra in Ucraina sono loro che si sono in preparazione degli incontri dei leader o dei ministri che si sono diciamo dati da fare a trovare gli accordi sulle sanzioni contro la Russia per esempio nel caso del Green Deal anche tutte le norme su Euro 7 oppure la norma su il divieto della vendita di veicoli con motore a scoppio dal 2035 lì ecco sono cominciate poi a venire fuori le posizioni dei vari stati le frenate dei vari stati per esempio il governo Meloni è stato molto protagonista di tutte le barricate che sono state alzate inizialmente con la Germania poi si è un po' quando loro dissero che stavano facendo una cosa insieme alla Germania in realtà no questo sulle macchine le auto con motore a scoppio dal 2035 in realtà no era sull'uso del biodiesel piuttosto del biofuel non voglio andare sui tecnicismi ma in Italia si raccontò la storia che stavamo diciamo facendo una forzatura insieme alla Germania in realtà non era vero nel senso che abbiamo bravo sì perché abbiamo aiutato la Germania a bloccare intanto un provvedimento che a Berlino non piaceva nel frattempo Berlino ha trattato sui biofuel e noi cioè sul carburante e sull'e-fuel sul carburante diciamo questo di nuova generazione e noi invece sul biocarburante non abbiamo ottenuto niente quindi insomma abbiamo solo fatto un favore alla Germania senza trattare per noi volevo chiedere a Liliana un commento su questo prima è emerso il tema della leadership mi chiedo però se sia compatibile una o più leadership forti con come funziona poi l'Unione Europea perché per certi versi uno potrebbe dire il livello decisionale è molto distribuito su organismi diversi non ci sono liste europee alle elezioni europee quindi ciascun paese elegge i suoi rappresentanti al Parlamento Europeo e questo è un grosso deficit di integrazione e di possibile leadership comune non c'è una legittimazione elettorale del presidente della commissione o del presidente no 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 il presidente della commissione ha una legittimità indiretta viene votato dai parlamenti ragazzi vabbè però no perché io temo molto questo momento della campagna elettorale quando è cioè quando bisogna stare molto attenti perché per non far passare il messaggio dell'Europa sta lì l'Europa ci chiede l'Europa fa l'Europa siamo noi ed è assolutamente democratica perché noi abbiamo parlando all'americana una camera un senato dove uno vale uno ogni stato vale uno perché in Lussemburgo dove sono in cinque ha un'istituzione in cui vale tanto quanto la Germania dove sono cento perché ogni paese vale per uno e poi abbiamo un parlamento e quelli li dirigiamo noi cioè sui nostri capi di stato e di governo non è che vengono non vengono imposti e poi abbiamo un parlamento che eleggiamo sempre noi il più grande parlamento democratico del mondo dove come tu sottolinei non ci sono liste transnazionali chiamiamole così ma ci sono i gruppi che in qualche modo cercano cercano condivide il presidente della commissione certo viene nominato dal consiglio ma ha una fiducia cioè viene ha un voto di fiducia del parlamento che attenzione lo può anche sfiduciare se ritiene cioè non è che Ursula von der Leyen sta lì perché la Germania e la Francia l'hanno deciso 4-5 anni fa e noi dobbiamo stare zitti e buoni perché se a noi non ci piace attraverso quelli che mandiamo a Bruxelles e quindi votate con molta attenzione perché hanno un grande grandissimo potere la possiamo anche mandare a casa i commissari li hanno bocciati i commissari i commissari li hanno bocciati le commissioni sono cadute non sì peraltro non per la commissione non è mai caduta perché il parlamento l'ha sfiduciata ma si è dimessa un attimo prima la commissione Santerre lo più bello scandalo delle istituzioni comunitarie con dei dentisti che facevano i consulenti ma insomma questa è una battuta secondaria quindi c'è il problema secondo me sai qual è Lorenzo che questa gente questi capi di state di governo tra cui io non vedo in questo momento leader forse la leader maggiore quella che ha una visione maggiore è proprio la Meloni il che va in una direzione europea che a me non piace ma è quella che ha la leader cioè che ha una visione non mi piace non importa lei ce l'ha gli altri sono deboli non stanno dando le carte Macron perderà le elezioni e comunque ha una visione dell'Europa molto vecchia Europa che non prende neanche in considerazione il fatto che ci siano altre persone che non esista soltanto la Francia che forse dire mandiamo i soldati in Ucraina senza averlo prima come dire non deciso ma discusso sono forzature che in altri paesi facilitano o rafforzano sentimenti contrastanti questa gente è quella che seleziona poi il candidato questa gente che mandi alla presidenza della commissione qualcuno di forte che è il grande punto di domanda di queste elezioni io non li ho mai visti sono sempre stati mandati alla presidenza della commissione persone che non li mettessero in ombra e alla presidenza del consiglio questa volta sarebbe necessario invece mandare qualcuno di diverso si parla molto di Mario Draghi con un possibile ruolo di Macron no? sembra sì perché Macron è quello che sta lavorando molto affinché la von der Leyen non ce la faccia ma d'altra parte la von der Leyen non ha bisogno di nessuno per indebolirsi fa tutto da sola con grandi abilità l'ha fatto l'ha fatto in questi anni almeno poi Angela l'ha seguita passo passo io l'ho seguita un po' più da lontano ma io ero abituata a una presidenza di commissione europea quando lavoravo lì e quando ho vissuto lì in cui se il presidente della commissione diceva una cosa quella cosa era vera era stata già trattata era già stata mediata era stata già negoziata perché la commissione dice cose fattuali con la von der Leyen non è stato così ha annunciato pacchetti di sanzioni che poi per anni abbiamo dovuto per mesi non per anni abbiamo dovuto vedere negoziati fa sempre fa fughe in avanti e politicizza un ruolo che non è politico che non dovrebbe esserlo anche il tutto per la carriera tutto per la carriera anche il Green Deal diciamo le sue debolezze al fatto che non c'erano molti soldi diciamo e almeno le mie fonti in commissione dicono non è stato vagliato come quel programma avrebbe avuto necessità perché c'era una forza c'è stata una forzatura politica e quindi alcune parti non reggono alcune parti sono contrastanti alcune parti si contraddicono a vicenda questo è un problema in commissione quindi la von der Leyen ha lavorato diciamo in autonomia per indebolirsi poi magari verrà confermata per carità ma certo non è lei la donna leader tra l'altro chi insomma si ricorda il 2019 ricorda che non era tra l'altro uno dei nomi discussi prima quantomeno in forma ufficiale si arrivò al suo nome dopo che i famosi Spitzenkandidaten quindi i candidati ufficiali alla guida della commissione erano diciamo stati accantonati e anche qui c'è un tema di leadership questo tentativo di rendere esplicito chi è candidato alla presenza della commissione col meccanismo degli Spitzenkandidaten che però nell'opinione pubblica non passa sui media non passa e gli stessi partiti è una grande ipocrisia e gli stessi partiti è un grande blef il lettore non capisce perché tanto non lo vuoti non hai le liste transnazionali non fanno nulla per fare quello che dovrebbe essere fatto cioè costruire un'opinione pubblica europea fare in modo che il leader non prenda non debba dar conto all'opinione pubblica e ai suoi lettori nazionali ma a livello europeo questo bisognerebbe fondare dei giornali europei ed essere di più a Bruxelles perché uno per giornale è poco cosa bisognerebbe fare soprattutto una grande battaglia media analisti eccetera per cambiare la nostra legge elettorale noi mandiamo voi scriverete la preferenza l'8 e il 9 giugno sceglierete un partito e due persone metterete il loro cognome queste persone per cinque anni vi rappresenteranno a Bruxelles ma per essere rielette avranno bisogno di nuovo che tra cinque anni scriviate il loro nome se non li vedete per cinque anni pensate che non stanno lavorando invece quelli bravi non devono farsi vedere in Italia devono stare lì è l'unico caso in cui la preferenza indebolisce indebolisce la rappresentanza democratica e politica la Germania che con tutta la sua crisi ha ancora un sistema paese che è una macchina da guerra a Bruxelles l'uomo forte tedesco per anni è stato Hans-Gerth Pettering che era il presidente del gruppo popolare non si muoveva foglia senza che lui lo volesse a tutti i livelli lui era uno sconosciuto in Germania perché è stato mandato lì era sempre capolista portava a casa tutto quello che c'era da portare a casa senza nessun problema io quando lavoravo al Parlamento Europeo i deputati che ho visto lavorare meglio che fosse in commissione agricoltura quindi parecchio importante per noi in commissione bilancio estremamente importante per noi commissione trasporti non sono mai stati riletti mai ma era facile stavano a Bruxelles non li conoscevano nessuno Germania è liste bloccate quindi non c'è il meccanismo della preferenza Mano Sereni difficile venderla all'opinione pubblica questa cosa lo so però se la spieghi secondo me ed è fuori dai a microfoni spenti tutti lo mettono lo dicono tutti tutti i deputati tutti i partiti tutti dicono è una follia perché costa da morire abbiamo circoscrizioni enorme costa da morire molto spesso metti grandi nomi grandi intellettuali anche perché devi alzare l'hype però molto spesso ti candidi anche in più circoscrizioni vorrei capire come fanno a fare la campagna perché già una circoscrizione è grandissima per cui Meloni Schlein Vannacci per fare tre nomi sono candidati per non andare a Bruxelles che è una cosa veramente contro ogni logica e legge della natura volevo proporre in chiusura Angela visto che insomma abbiamo detto tante cose anche diciamo tornando un po' al tema del tuo libro questo concetto di normalizzazione dei sovranismi e dei nazionalismi che non hanno un effetto solo diretto questa è una cosa che spesso non arriva tanto ma hanno un effetto indiretto nel far slittare l'agenda della decisione pubblica a destra e questo riguarda l'hai detto prima i popolari ha riguardato i liberali sui diversi dossier e quindi quando vedremo il 9 giugno probabilmente faccio due nomi a caso ECR e ID gruppo conservato gruppo diciamo nazionalista sovranista quando li vedremo crescere in termini di seggi non vorrà dire che hanno la maggioranza loro perché saranno ben lontani da averla ma pesano di più e esercitano una pressione da destra sui popolari che sono invece la pietra angolare di qualunque maggioranza nel parente europeo e allora quello che ti chiedo è in chiusura che cosa c'è davvero in gioco in queste elezioni quali sono le sfide sulle quali l'8 e il 9 giugno voteremo alla luce di questo contesto che abbiamo visto insieme oggi beh c'è sicuramente tanto per andare subito a individuare il cuore del problema e del futuro dell'Europa la sfida della riforma dei trattati il Parlamento europeo a larga maggioranza qualche mese fa ha votato una risoluzione che dice che bisogna riformare i trattati per andare verso un'integrazione maggiore per abolire l'unanimità e quindi togliere a chi si diverte appunto a usare il voto in maniera strumentale togliere il veto il diritto di veto in modo tale che su molti dossier l'Unione europea sia capace di decidere più velocemente non sfuggirà che le forze politiche che ci governano tranne forze Italia hanno votato contro Fratelli d'Italia e Lega tutta la schiera dei nazionalisti quindi dalla Le Pen alla FD hanno votato contro quindi se questi come dicevi tu e come dicono i sondaggi crescono di numero mi devono spiegare poi con chi le fanno queste riforme e magari può essere pure che comunque prendono il tema e lo trattano ma come lo trattano con quali parole d'ordine lo trattano con le parole d'ordine che Meloni ha sdoganato in Italia e che prima sentivamo soltanto dalla Polonia e cioè quello di stabilire il primato del diritto nazionale sul diritto europeo questo è uno slogan dei polacchi dei sovranisti polacchi che è stato introdotto in Italia da Meloni nel momento in cui ha fatto campagna elettorale in Europa cioè nessuno di questi nazionalisti adesso vuole uscire dall'Unione Europea la FD ha parlato qualche settimana fa di un referendum per uscire ma non ci sta puntando tanto perché comunque a tutti a me fanno ridere quelli che parlano quando ci sono stati momenti di crisi più acuti tra Bruxelles e Varsavia poi l'exit la Polonia fuori dall'UE ma quando mai ma chi gli dà i soldi per sopravvivere non è quella la posta in gioco infatti adesso nessuno agita più questioni tipo Brexit di uscire perché poi i soldi europei fanno comodo a tutti il problema però però come diceva Liliana Meloni per esempio una visione ce l'ha la sua visione è meno Europa più stati nazionali quindi battuta dal resto per il cammino di integrazione tra gli stati e poi mi devono spiegare come sopravviviamo rispetto alla competizione che è spietata da parte non solo dei paesi nemici o comunque non proprio amici o comunque tipo la Cina ma anche dei paesi amici tipo gli Stati Uniti cioè stiamo parlando di stati che sono uno stato dove si parla una sola lingua questo è il nostro problema non saremo mai uno stato perché parliamo 24 lingue diverse e che sono capaci di prendere decisioni di fronteggiare la competizione globale varando dei piani tipo quello di Biden sul piano anti-inflazione per aiutare le imprese una cosa simile l'Unione Europea non è stata in grado capace di produrla e quindi il problema è questo poi i nazionalismi ci devono spiegare nel momento in cui puntano a frammentare ancora di più l'Unione Europea a bloccare il cammino di integrazione a dividersi nord-sud se dobbiamo sull'ipotesi di creare nuovi strumenti comuni eccetera eccetera devono spiegare come sopravviviamo rispetto alle sfide globali cioè è la fine dell'Europa questa è la fine dell'Europa se vincono loro è la fine dell'Europa infatti volevo aggiungere occhio a quello che desideri perché si potrebbe avverare rispetto alla risoluzione del Parlamento di aprire una riforma dei trattati facciamo molta attenzione perché poi non ce la possiamo prendere esatto va bene siamo riusciti a toccare tanti temi facci guidare un po' da questo supporto delle immagini ricordo il libro che abbiamo citato tanto questa sera Europa sovrana la normalizzazione dei nazionalismi di Angela Mauro edito da Fondazione Filtrinelli insomma fa parte della colonna ricerca della fondazione Filtrinelli con chi vorrà ci vediamo il 6 giugno per l'ultima tappa davvero diciamo con gli ultimi numeri gli ultimi scenari sul voto prima di allora insomma ovviamente seguire Sky TG24 per tutti gli aggiornamenti in avvicinamento al voto grazie davvero a Angela Mauro Liliana Faccio-Quintozzi e a tutti voi grazie 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 a tutti